Grazie, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo webinar informativo per gli esami di abilitazione di quest'anno 2022. Ringrazio il gruppo Maggioli per la disponibilità e per l'organizzazione di questo webinar. Ora andremo a trattare alcuni aspetti dell'esame di preparazione, alcune informazioni che sono importanti per capire la professione del geometra ma che sono utili al sostenere dell'esame di Stato. Ora cerchiamo di capire che cos'è una professione, cosa vuol dire professione? Se noi parliamo di attività professionale cosa si intende? Beh, la professione è una cosa molto particolare, quella che tutti voi vi accingete ad affrontare con il primo passo che è sostenere l'esame di Stato. Fare un'attività professionale vuol dire esercitare con abilità. Faccio un piccolo esempio, io lo riporto sempre nel campo dello sport. In tutti noi ci piace giocare a calcio, chi più chi meno, chi è più bravo, meno bravo, ma qual è la differenza che fa il giocatore di serie A quello bravo, cioè quello che è la sua professione, che fa il professionista del calcio? È quella, qualche cosa in più che ha di abilità rispetto a chi lo fa a livello amatoriale, quel qualcosa che lui fa con veramente un livello superiore, quindi con un'abilità che è importante perché è la parte prima della nostra, diciamo, dell'attività professionale. L'altro fattore non meno importante è sicuramente la passione che ci contraddistingue. Un professionista che non ha del proprio lavoro diventa complicato fare una professione, anche perché molto spesso noi abbiamo a che fare con la normativa, con cose che a volte leggere non è come leggere un bel romanzo. Se non hai passione di quello che fai, quindi di quella tenacia di voler approfondire determinati argomenti per raggiungere il passo sopra che dicevamo dell'abilità, diventa veramente complicato. Questo serve per acquisire quelle che sono le competenze. Competenze territorio cosa vuol dire? Nel nostro specifico caso competenza è quello che sappiamo fare, perché ricordate una cosa, io quello che ho sempre detto anche ai miei collaboratori in altri corsi, è che il cliente ci paga per quello che sappiamo fare con quello che sappiamo e non solo per quello che sappiamo. È una piccola, diciamo, un gioco di parole per dire che la gente ovviamente si aspetta un risultato, che è la nostra competenza nel settore. E territorio perché? Perché noi il territorio lo rileviamo, lo rileviamo dal punto di vista topografico, lo rileviamo dal punto di vista quando facciamo rilevo di un immobile, quindi abbiamo la conoscenza del territorio e questo fa di noi una parte molto importante a livello anche sociale. Poi la nostra attività non riguarda solamente alcuni settori che magari siete abituati a vedere o per chi sta lavorando magari in settori specialistici, ma riguarda veramente tanti settori ed ha una polivalenza la nostra attività, vuol dire che riusciamo a destreggiarci in situazioni a livello trasversale, passando dalle varie situazioni di necessità della nostra professione, ma soprattutto del cliente. Pensate che la nostra professione è nata nel 39 come geometra, prima veniva chiamato agrimensore, cioè il misuratore di terra era sostanzialmente, poi con l'evolversi della società quindi si rendeva necessaria una figura professionale che fosse in grado di coprire le esigenze di quel periodo e da lì che nasce è nato il geometra. Dopodiché c'è stata un'ulteriore evoluzione perché adesso voi vedete che la scuola del geometra non si chiama più così, si chiama CAT, quindi costruzione, ambiente e territorio. Perché? Ma perché è un'altra ulteriore evoluzione, evoluzione nel senso di capire che noi a parte la costruzione abbiamo a che fare con l'ambiente e quindi col territorio, come dicevamo prima. Poi un fattore, ma questo è veramente nostro, è il senso di appartenenza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci sentiamo un gruppo, viviamo questa cosa con i colleghi, quando altri vedono i colleghi come concorrenti noi li vediamo come colleghi amici, anzi con cui collaborare, con cui scambiarsi informazioni oppure scambiarsi pratiche. Perché? Perché io magari sono specialista in un determinato settore, un collega in un altro, quindi non c'è nulla di male a scambiarsi in questo modo e poter interagire, dare il massimo servizio che è importante per il cliente. Ok, questo è una piccola premessa per far capire cosa vuol dire approcciarsi oggi alla professione. L'esame di stato, l'esame di abilitazione è l'inizio della professione, quindi è importante capirne il concetto. Perché? Perché tutto ciò che riguarda le domande sono domande che parlano di qualcuno che vuole esercitare una professione. Una cosa da non confondere è l'esame di abilitazione con l'esame di stato, che sia del CAT o quello del geometra precedente. È diverso, l'esame di stato è un esame che abilita una persona che ha compiuto i cinque anni di studi e quindi attesta che questa persona ha superato bene questi cinque anni e quindi si è diplomato con l'attività di CAT o geometra. Ma l'esame di abilitazione è un esame che abilita all'esercizio della professione, che è ben diverso. Però adesso cerchiamo di capire quali sono le competenze e che cosa fa il geometra, perché questo è importante. Dopo capirete dalle domande, alcune domande che vedremo nella parte un po' più finale, che vengono fatte agli esami di stato, perché dobbiamo capire in quali campi noi possiamo lavorare. Una delle cose primarie che bene o male conoscono tutti, che cos'è la progettazione e la direzione lavori. Bellissimo, tutti sappiamo che il geometra può fare il progetto, il progetto degli interni, le modifiche interne, modifiche esterne, varie progettazioni, possono essere sia piccole nuove costruzioni, piuttosto che anche alcune cose su servizi che possono essere fabbricati ad uso diverso da quello dell'abitazione. Però c'è anche sempre collegata a quello che è la direzione dei lavori. Cosa vuol dire direzione dei lavori? Vuol dire essere come il direttore d'orchestra che fa suonare tutti con le stesse modalità per raggiungere un compito finito dell'opera che è quello che ha commissionato il cliente. Quindi dare al cliente ciò che ha chiesto e ciò per cui sta pagando. Quindi una delle cose fondamentali che penso che bene o male possiamo conoscere tutti. Un altro campo che cos'è il catasto e la topografia. Storico direi il catasto, topografia, geometra che fa il rilievo, rilievi topografici per l'aggiornamento delle mappe catastali, quindi per l'aggiornamento del catasto terreni. Oggi il catasto viene chiamato agenzia delle entrate, prima agenzia del territorio, prima era il catasto. Ora attraverso questi rilievi topografici si vanno ad aggiornare le mappe catastali e attraverso il catasto edilizio urbano si vanno ad aggiornare le planimetrie facenti parte di quell'edificio. Quindi è un aggiornamento continuo e fa parte collaterale al nostro lavoro. Pensate che se torniamo prima alla progettazione, direzione dei lavori, quando noi andiamo a chiudere le pratiche, dobbiamo anche consegnare quello che è l'aggiornamento catastale delle modifiche eseguite. Quindi vedete il collegamento, nonostante ci possano essere studi che si siano specializzati in un settore piuttosto che in un altro. Vediamo successivamente anche nell'eseguire i lavori, abbiamo parlato prima di direzione dei lavori, ma c'è un'altra figura che è il coordinatore della sicurezza, questa figura che è una figura specialistica, che però che cosa riguarda? Riguarda prettamente l'esecuzione dei lavori in sicurezza che vengono organizzati sia in quello che viene chiamato la fase di progettazione piuttosto che nell'eseguire i lavori sulla fase di esecuzione dei lavori. Cosa vuol dire? Vuol dire organizzare i lavori in maniera a organizzare le ditte, in maniera che tutte le lavorazioni dall'inizio alla fine di questo cantiere possano essere svolte con il minimo rischio accettabile che può derivare da quel tipo di lavorazione, nella massima sicurezza possibile. C'è stato un cambiamento nella normativa quando è uscito la prima volta che era il decreto legislativo 494 all'epoca. Prima era uscito la 626 che riguardava le aziende, poi il 494 che riguardava più i cantieri, ma aveva praticamente stabilito che la sicurezza doveva essere al 100%, cosa che era impossibile da tenere perché quello che si tende è sempre la mitigazione del rischio, la riduzione del rischio a quasi zero. Quindi il piano di sicurezza in fase di progettazione cos'è? È quel piano dove all'inizio, prima di iniziare i lavori insieme ai progettisti, si stabilisce come fare i lavori in sicurezza. Immaginate ad esempio non solo la classica villetta, però immaginate di dover fare dei lavori stradali, per esempio, dove c'è un traffico, dove c'è il passaggio di persone, dove c'è sui marciapiedi, c'è passaggio pedonale, eccetera. Come si possono eseguire questi lavori tenendo conto della sicurezza non solo delle persone che ci lavorano, ma anche delle persone che transitano, che passano, che a parte i curiosi solito dei cantieri, però questa è la fase di progettazione. Nella fase invece di esecuzione che cosa succede? Che si va a verificare quello che è l'applicazione di quello che è stabilito dal piano di sicurezza e coordinamento, il PSC cosiddetto. Quindi anche questo è una delle specialità, specializzazioni importanti nel nostro tipo di lavoro. Poi che cosa abbiamo anche? La prevenzione incendi. La prevenzione incendi è un'attività molto particolare, richiede una specializzazione molto forte, quindi è necessario successivamente all'abilitazione anche frequentare dei corsi particolari per se ovviamente la materia ha fascina, piace, quindi va affrontato per la progettazione dal punto di vista della riduzione del rischio incendio di quelle che vengono chiamate le attività soggette a controllo di prevenzione incendi. Queste attività sono state recentemente modificate, ci sono state numerose evoluzioni legislative, ma sostanzialmente quello che è la cosa principale è che tutte queste attività normate e non normate, come si dice, devono essere realizzate in modo da mitigare quello che viene chiamato il rischio incendio. Perché? Perché insieme alla progettazione architettonica va tenuto conto anche di come progettare dal punto di vista di sicurezza antincendio, quindi vuol dire definire le vie di esodo e le compartimentazioni che non sono altro che la suddivisione di locali in comparti più sicuri per non far propagare l'incendio da una parte all'altra, piuttosto che delle murature, definire quali murature debbano essere resistenti al fuoco o pareti resistenti al fuoco per garantire magari la sicurezza antincendio verso altri fabbricati, verso altre attività. Quindi come vedete sono molto collegate assieme, se torniamo indietro un attimino dalla progettazione, noi facciamo la progettazione di un, può essere un punto vendita piuttosto che un piccolo fabbricato, un fabbricato ad uso deposito o che ne so, un'autorimessa, un condominio, dobbiamo tenere conto anche di che cosa, a parte la progettazione architettonica, la direzione dei lavori, la sicurezza di quando si fa la costruzione, ma anche della parte di prevenzione incendi perché influirà su quello che è la parte progettuale, di solito queste cose qui si lavora anche in equip dove il progettista architettonico si interfaccia col progettista antincendio per andare a, come dire, a sistemare, aggiustare, condividere assieme quello che può essere la progettazione di quel particolare edificio che tiene conto del rispetto della normativa antincendio. Quindi quando prima dicevo la collaborazione fra altri colleghi, ecco questo è uno dei casi sicuramente più, come dire, più, che sono di solito più accettati e più in uso, no? La competenza di una persona rispetto ad un professionista, rispetto ad un altro, uno è molto più esperto nella progettazione e un altro è esperto nella parte di prevenzione incendi, quindi insieme collaborano ognuno per la sua parte alla realizzazione di questo progetto. Quindi abbiamo detto la prevenzione incendi, un'altra parte oggi più che mai molto importante è quello della certificazione energetica o la progettare l'efficienza energetica, la progettazione energeticamente efficiente di edifici che fa parte anche di quello che è chiamata la sostenibilità degli edifici. Ora la certificazione energetica non è nient'altro che valutare quello che è lo stato di fatto di oggi, di questo edificio e dire qual è la sua classe energetica, cosa è, come si trova attualmente questo edificio dal punto di vista energetico, no? Quindi le classi vanno da una A4 che è la massima, la più efficiente possibile, fino alla peggiore, alla classe G, ma perché si sono fermati alla classe G, se no ci sono edifici molto vecchi che hanno una classe energetica veramente bassa, cioè dal punto di vista energetico non sono efficienti, sono cosiddetti energivori, consumano tantissima energia, che vuol dire energia il gas piuttosto che altri combustibili, ma è di elettricità. Quindi avere un edificio dal punto di vista progettare un edificio dal punto di vista energetico e invece andare a progettare quali sono quegli adeguamenti dal punto di vista energetico che si devono applicare a questo edificio per portarlo da una classe energetica diciamo molto bassa a una classe più elevata, quindi ad un consumo maggiore di energia, ad un minor consumo di energia. Oggi sapete, l'avete sicuramente sentito in occasione purtroppo della guerra, che i costi energetici sono saliti e quindi maggiori costi energetici, si ricerca la maggiore indipendenza energetica. Oggi è quindi un tema molto sentito, molto importante, per cui fa parte della progettazione. Non si può fare la progettazione architettonica senza tener conto di quello che è la progettazione energeticamente efficiente dell'edificio. Quindi se vedete tutte queste cose che abbiamo visto dalla progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza, la prevenzione incendi e anche la parte energetica sono tutte collegate a una progettazione fatta in modo che l'edificio possa rispettare sì tutte le normative, ma che possa dare anche un edificio che dal punto di vista energetico assorba meno energia possibile e magari si avvale di più energia rinnovabile. Quindi procediamo oltre, vediamo che un'altra parte importante di quello che è la nostra professione sono le stime, le perizie, le consulenze immobiliari, consulenze per le compravendite. Questo è un patrimonio anche nostro, ma noi non facciamo, ecco, tengo a precisare una cosa, non facciamo l'immobiliare. È vietato per chi è iscritto all'albo o chi fa l'immobiliare che è iscritto in un suo registro, cioè l'immobiliarista fa l'immobiliarista, quindi prenderà le provvigioni per la vendita degli immobili. Noi non prendiamo provvigioni per la vendita degli immobili, noi assistiamo i clienti per la compravendita, che può essere la verifica documentale, vedere se l'immobile è regolare dal punto di vista edilizio, urbanistico, catastale, oltre a dare assistenza magari alla stesura del compromesso, alla verifica dei valori, se la vendita che sta effettuando o l'acquisto sono congrui con i prezzi di mercato, oppure assisterlo anche dal punto di vista notarile. Quindi capite che c'è anche qui un mondo dietro, la conoscenza del mercato immobiliare, la conoscenza delle costruzioni, la conoscenza dei valori immobiliari che si possono applicare da zona a zona, da comune a comune, da città a città. Quindi è una specialità molto forte anche questa. Vediamo anche un altro fattore che è la dichiarazione di successione o l'assistenza notarile per varie attività del notario, ossia dalla compravendita, la divisione patrimoniale, la divisione ereditaria. Noi diamo quella che è l'assistenza per quanto riguarda tutta la parte tecnica. Siamo abilitati alla redazione della dichiarazione di successione che comporta la conoscenza del diritto, diritto di famiglia, diritto delle successioni per capire quali sono individuare gli eredi, le quote che possono andare in eredità, tutte le varie casistiche. È una materia molto affascinante, molto particolare. Come tutte vanno affrontate veramente con piacere quando si fanno determinate cose, quindi con la passione come dicevamo prima. Vediamo un'altra delle attività del geometra è quella del consulente tecnico del tribunale. Ora il giudice è un esperto nel diritto, conosce le leggi, conosce tutto quanto ma purtroppo non può conoscere tutto quanto è magari riferito all'edilizia. Quindi si avvale di quello che viene chiamato consulente tecnico dell'ufficio o cosiddetto CTU che sono i suoi occhi per vedere materialmente determinate situazioni e rispondere a certi quesiti che il giudice ritiene opportuno. Per esempio può essere la valutazione di un danno, il litigio fra due persone per un lavoro eseguito, eseguito bene, eseguito male, oppure la stima di un immobile che deve essere venduto perché ho comprato una situazione tra acquirente e compravendita. Quindi noi che cosa facciamo? Diamo al giudice attraverso l'esperimento di quello che è tutta la procedura del consulente tecnico d'ufficio, di tutta quella procedura per dare al giudice tutti gli elementi per rispondere ai quesiti che lui ha posto e quindi poter, come dire, in maniera tecnica e giuridica poter chiudere una lite o una situazione legale che è in corso. Vediamo ulteriormente una, questa è abbastanza tipica, è l'amministrazione di condominio, quindi il geometra nella sua attività professionale molti hanno scelto come attività primaria di fare l'amministratore di condominio, quindi conoscenza di tutta la normativa per quanto riguarda il condominio e quindi occuparsi di quello che è la gestione ordinaria, straordinaria, la manutenzione e tutto ciò che è inerente alla gestione condominiale. Andiamo avanti, così vediamo per ultimo, ultima nata, è la cosiddetta specialità nel BIM, così è il Building Information Modeling. Cosa vuol dire il BIM? Come dice, adesso è in inglese, ma è una modellazione di informazioni perché viene fatto in 3D, voi magari sarete già esperti nel disegno in 3D attraverso vari programmi che possono essere Revit piuttosto che Alplan, piuttosto che altri programmi sul mercato, ma non è il semplice 3D, è l'assegnazione, il BIM è l'assegnazione a quel determinato elemento, che può essere una muratura, un pilastro, un solaio, di tutte quelle informazioni di come è costituita quella parete, con che materiali, quali sono le trasmittanze, tutte informazioni per la modellazione non solo dal punto di vista 3D, ma anche dal punto di vista costruttivo dell'immobile. A questo punto cosa succede? Che il progettista architettonico attraverso la condivisione del BIM passa a questo progetto, magari viene utilizzato da quello che sarà il progettista meccanico per fare il suo progetto degli impianti di climatizzazione, ricambi d'aria, eccetera, piuttosto che il progettista elettrico e tutti quanti operano sullo stesso progetto, quindi è una nuova situazione dove si vengono a creare delle figure come il BIM specialist piuttosto che il BIM manager, quindi sono evoluzione di una particolarità di informazioni nel campo delle costruzioni. Ora però a questo serviva perché era importante darvi queste considerazioni, ce ne sono anche altre, oggi ci stiamo occupando di super bonus, eco bonus, bonus facciate, eccetera, quindi vuol dire anche una cosiddetta nicchia di lavoro che potrebbe essere definita come il geometra fiscalista, ma non perché fa il commercialista, perché si occupa di quello che è della fiscalità dei beni immobili, quindi degli immobili. La fiscalità cosa vuol dire? Sapere quali possono essere le detrazioni fiscali, sapere quali sono tutta l'assistenza alle compravendite per quello che riguarda le tassazioni o altre informazioni dal punto di vista della fiscalità degli immobili. Perché è importante conoscere bene o male tutto ciò che può fare il geometra? Perché quando voi fate l'abilitazione alla professione siete abilitati a tutti i campi e non uno qualsiasi, quindi è normale che nelle domande che possono essere poste, possono spaziare da una argomentazione a un'altra, il che non vuol dire che nell'attività professionale voi dovreste essere specialisti in tutti questi settori. Quello che è consigliato è avere una o due specialità molto forti, ma la conoscenza di tutti gli altri la si deve avere. Uno che fa direzione ai lavori non può esimersi dal conoscere che è necessario fare un piano di sicurezza per una costruzione, piuttosto che qualcuno dovrà fare quello che viene chiamata la legge 10, ex legge 10, per la parte di isolamento termico, piuttosto che la prevenzione incendi si sta progettando un'attività soggetta a prevenzione incendi. Quindi sono informazioni che bisogna conoscere come conoscenza basica e poi noi possiamo specializzarsi in uno, due, tre di quei settori che ci affascinano, che ci piacciono così tanto da permetterci di approfondirli, di renderli nostri come come materia. Quindi questo è veramente importante per comprendere quelle che sono e saranno le domande d'esame che verranno eseguite. Ora parliamo un attimino di quello che sarà l'esame del 2022. Nel 2022 come anche nel 2021 l'esame non sarà come le altre volte con due prove scritte e una prova orale. Sarà direttamente la prova orale? Sarà. A prescindere adesso dalle altre date il 15 novembre, 16, 17, che sono le date di insediamento, di prosecuzione dei lavori e predisposizione del calendario della commissione esaminatrice. La data importante è il 22 di novembre del 2022 alle ore 8.30 perché iniziano le prove orali. Ok? Ora la commissione, la commissione com'è composta? La commissione è composta fondamentalmente da cinque persone. Tre sono professionisti geometri, due sono del mondo dell'istruzione. Il presidente della commissione nella norma è solitamente il preside di un istituto tecnico. L'altro membro è un professore che magari può insegnare estimo piuttosto che tecnologia o altre materie nel campo tecnico sempre, ma tre sono nostri colleghi che devono partecipare come commissari alla vostra prova. Quindi abbiamo visto che l'inizio è il 22 di novembre. Quanto durano le prove? Allora, le prove normativamente loro non possono fare meno di cinque candidati al giorno, quindi almeno cinque, poi c'è chi può farne cinque, chi può farne otto, dieci a seconda delle situazioni e almeno per cinque giorni la settimana. Quindi da lì in funzione di quanti iscritti sono, mettono giù il calendario come abbiamo visto prima che il 17 di novembre predisposizione del calendario della prova orale comunicazione dello stesso ai candidati ammessi agli esami. Ok? Quindi verrà esposto questo calendario dove voi saprete quando e che giorno e a che ora è la vostra prova orale. Ok? Naturalmente si supera la prova e si è abilitati quando almeno si ottiene un punteggio di 60 centesimi, visto che è un centesimo, almeno il 6 come a scuola, almeno il 6 se no non si può passare all'esame. Quindi la durata massima dell'esame è di 30 minuti e viene effettuata, cosa vuol dire, in una sede virtuale, una piattaforma come la nostra dove però c'è una differenza che ci deve essere interazione audio-video tra la commissione il candidato. Quindi non è che potete spegnere la telecamera o perché... no, deve esserci la visibilità, quindi telecamera, microfono e tutto quanto. Una cosa importante è di provare prima queste cose, provare dove mettersi per scegliere il posto di dove fare l'esame, l'esame, in modo da trovare un posto tranquillo, un posto dove ci si sente bene, dove soprattutto la connessione funzioni bene, quindi non ho il blocco immagine, si congela, le parole arrivano distorte, capite che così diventa complicato sostenere un esame. 30 minuti possono essere non tanti, ma se però l'esame io sono fluente, sto andando bene, tutto quanto, 30 minuti va benissimo, ma se ho bisogno di più tempo per recuperare magari una domanda a cui non ho saputo rispondere, non sono tantissimi e soprattutto se si continua a bloccare l'immagine o non vedere bene quello che si deve vedere o sentire soprattutto. Quindi la piattaforma viene... non è che la scegliamo noi, ce la viene assegnata dal collegio di competenza perché ne è responsabile, la deve garantire sia come sostenibilità, come tenuta del sistema, ma non solo, come assistenza, come supporto tecnico, mentre c'è un problema durante la connessione o qualcosa, c'è qualcuno, un tecnico che può intervenire per portare avanti gli esami, anche perché i commissari non sono tecnici informatici, quindi ci vuole qualcuno che abbia dimestichezza con queste cose per dare il risultato che serve. Ora, visto che un po' di tempo è trascorso, passiamo alla parte forse più interessante che sono un po' le domande, le materie che di solito sono oggetto di esame. Le materie principali sono quelle sulla progettazione, pratiche edilizie, la direzione dei lavori, l'estimo, la topografia, il diritto privato perché fa parte dei nostri studi e magari un po' la prevenzione incendi, l'efficienza energetica, la sicurezza dei cantieri, un po' ciò che abbiamo visto prima. Quindi ecco perché è importante conoscere quello che può fare, quello che possiamo fare per sapere su quali domande i commissari possono indirizzarsi. Però c'è una cosa importante da capire prima. I commissari non sono lì per bastonare i candidati, i commissari sono lì per verificare se una persona è in grado di esercitare una professione e sono lì e cercano di aiutare il candidato, non di metterlo in difficoltà. A volte il candidato si mette in difficoltà, può succedere che capita e si metta in difficoltà da solo. A volte per aiutare il candidato cosa fa? Si va a prendere delle domande, si va a fare delle domande su quello che lui ha scritto sul curriculum che ciascuno di voi ha consegnato con la domanda d'esame. Però se nel curriculum per magari scrivere un po' di più, far vedere che uno ha fatto un sacco di cose, ha scritto delle cose che magari non ha mai fatto nella sua attività lavorativa, potrebbe essere una situazione di difficoltà. Perché il commissario non è che fa delle domande per mettere in difficoltà, si ha preso delle domande che uno ha dichiarato che magari nel curriculum era un super esperto di certificazione energetica e magari non ha mai visto un'ape. Capite che se vi fa qualche domanda e uno non ha esperienza si può trovare in difficoltà. Sono sicuro che non stiamo parlando di nessuno presente in questo webinar. Consiglio che se qualcuno magari ha scritto una cosa di cui ha poca dimestichezza, un pochino, magari di approfondirla, c'è il tempo per farlo in modo che non ci si trova spiazzati. Quindi vediamo ora alcune domande tipiche. Ce ne sono, pensate, quanti collegi, cinque commissari per ogni commissione. Se dovessimo fare l'elenco di tutte le domande sarebbero migliaia. Ora le abbiamo ridotte a una decina che sono quelle più, come dire, secondo me più importanti che solitamente nel 99% dei casi vengono fatte. La prima è che cos'è un PSC? Allora può essere brutale. Uno dice ma io non sono, non possono entrare nel merito di domande così specialistiche inerenti alla sicurezza a cantieri, a meno che uno non ha dichiarato di essere un super esperto, perché è oggetto anche di un studio approfondito almeno di 120 ore per l'abilitazione. Però, come dicevo prima, un tecnico, un professionista deve sapere almeno che cos'è il PSC. Come potrebbe rispondere il candidato? Ora vi faccio vedere una cosa. A questa domanda potrebbe dare qual è la definizione. Se noi vediamo la definizione completa, il piano di sicurezza e coordinamento è il documento redatto in fase di progetto in cui sono analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi, alle misure di prevenzione e protezione relative a uno specifico cantiere e che dovranno essere strettamente connesse ai piani operativi di sicurezza POS. Questa sarebbe la definizione. Ora, io perché ho sottolineato in giallo e ho messo un punto dove vedete cantiere? Perché dico c'è una cosa fondamentale. Io in questo modo sto dando adito al commissario di farmi un'altra domanda. Quindi se io mi ha chiesto una cosa e rispondo a quella cosa. Ecco, ok, relativo ad uno specifico cantiere, punto, e mi fermo lì. Se io invece vado avanti, che cosa rischio? Rischio questo, di portare l'interessato dove non arriva da solo. Quindi se ritorniamo indietro, ok, ah, piano operativo di sicurezza, ma mi sai anche dire che cos'è il POS? Capite che porto la persona dove magari non arrivava da solo o non gli era venuto in mente di chiedervi qualcosa del POS. A meno che c'è una strategia anche questo, che io lo faccio perché sono un super esperto e sono io che sto portando l'interessato dove non arriva da solo. Quindi, capite, voglio che mi faccia la domanda sul POS. Capite? Ecco, dovete fare molta attenzione a come vengono date le risposte alle varie domande. Imparate una cosa, a rispondere a ciò che viene chiesto. Se allargate la risposta con la trasversalità di altri campi, o siete esperti in quello che state dicendo, o se no rischiate che ulteriori domande vi possono mettere in difficoltà. Quindi, abbiamo visto questo concetto importantissimo, non portare l'interessato dove non arriva da soli. Poi, ovviamente, abbiamo indotto noi la seconda domanda, che cos'è un POS? A questo punto, ok, diamo la definizione di quello che è il POS, che non è nient'altro che il documento piano operativo di sicurezza, che è il documento che redigono le imprese per uno specifico cantiere, come viene definito, cantiere temporaneo mobile, dalla normativa dal DLGS 81-2008. Ok? Un'altra domanda, quale potrebbe essere? Questa qui è particolare. Io le ho chieste un po' ad alcuni commissari, io ho fatto il commissario per tre anni di seguito e ho chiesto alcune domande a dei commissari che hanno fatto gli esami anche l'anno scorso. Cosa si usa per effettuare un rilievo di un terreno quadrilatero? Ora, che una domanda è talmente particolare, dovete capire, magari uno si concentra al terreno quadrilatero, ma se un terreno sia quadrilatero piuttosto che abbia più latio, qual è la strumentazione che uno deve usare per quando deve rilevare un terreno? Questo è il concetto, che a volte non fatevi sviare dalla domanda o da magari che contiene quasi un inganno, non è magari voluto la cosa, però magari voleva semplificare il commissario, però uno magari si concentra lì, il terreno quadrilatero, potrei misurarlo con la bindella, sapete cos'è la bindella? Quella che si usava una volta chiamata rotella metrica, ma oggigiorno si usa quello che viene chiamato la stazione totale, no? Quindi, ecco, allora io che cosa vado a dire? Perché uno potrebbe dire il teodolite, il tacheometro, ma il teodolite in teoria, il teodolite ottico meccanico di una volta, misura solo gli angoli, il tacheometro misura le distanze. La stazione totale, quella che oggi si usa, è quella che è un po' all'unione del teodorite integrato con un distanziometro, quindi da qui che nasce il termine stazione totale, che misura sia gli angoli che le distanze, quindi angoli azimutali, genitali, quindi verticali e orizzontali e le distanze, oltre alle distanze inclinate, perché tramite il computer di bordo fa già i calcoli e può dare anche la distanza inclinata o la distanza obliqua o il dislivello, a seconda di quello che può servire nel rilievo. Quindi, ecco, queste sarebbero le considerazioni giuste nel rispondere. So che voi avete già conoscenza di queste cose, però è solo per far capire che dietro la domanda magari ci può essere, non voglio dire un trabocchetto, però un qualche cosa che porta magari ad intendere una cosa che poi nella realtà non è quello che voleva sentirsi dire il commissario. Vediamo un'altra domanda, questa qui è particolare, è stato chiesto ad un candidato che cosa si trova tra la gru e il contatore e questo che poverino è rimasto un po' spiazzato. Cosa c'è tra una gru e il contatore? Ma naturalmente se uno pensa a, perché gli ha detto la gru e uno si concentra sulla gru, ma in un cantiere dopo qualsiasi contatore ci deve essere un quadro di cantiere a cui poi si derivano vari sottoquadri, perché magari non è un cantiere piccolissimo, a seconda delle dimensioni del cantiere c'è il quadro generale del cantiere, il quadro di elettrico, un quadro di cantiere, non è che chi ha mai visto collegare un'attressatura direttamente al contatore, no? Cioè anche da casa vostra, da casa nostra c'è il contatore esterno, c'è il contatore dove misurano le letture e in casa abbiamo un quadrettino da dove si derivano tutta la parte di impianto elettrico. Quindi è sicuramente, come dico, una domanda semplice ma può confondere anche un candidato, no? Quindi una qualsiasi attrezzatura elettrica in cantiere è collegata ad un quadro oppure un sottoquadro, a seconda, ripeto, delle dimensioni del cantiere, anche perché il quadro elettrico poi avrà tutte le messe a terra, ci sono tutta la linea di terra, c'è tutte le sicurezze, quindi è fondamentale capire la domanda e non farsi trarre in inganno. Poi tornando alla parte edilizia, la classica domanda è che cos'è la CILA? Sembrano domande banali ma molto spesso portano a delle risposte che sono veramente non pensate spesso e portano a una confusione pazzesca. La CILA alla fine dobbiamo capire, anche qui come vedete ho sottolineato in giallo, però la CILA è una comunicazione, innanzitutto loro ve lo danno come termine siglato, la CILA. Voi dovete sapere il termine, come dire, dare la definizione estesa, comunicazione di inizio lavori asseverata, che è utilizzata per i lavori, ecco potrebbe essere, questa è la definizione prima che mi viene in mente, no? E dico ok, è utilizzata per quei lavori dove non serve la SCIA o il permesso di costruire o non si tratta di edilizia libera. Anche qui cosa ho fatto? Ho portato l'interessato dove non poteva arrivare. Quindi, ah benissimo, mi sai dire anche la SCIA e il PDC allora? Oppure potrei dire la CILA, ovvero comunicazione di inizio lavori asseverata, è un titolo abilitativo che serve per eseguire opere su un edificio che riguardano interventi di manutenzione straordinaria, che sarebbe la definizione più corretta della CILA. Quindi, a parte manutenzione straordinaria, può fare altre cose, ma è il titolo più basso, diciamo, per quello che sono le opere edilizie che si possono realizzare con il titolo abitativo e quindi posso fare opere edilizie che non sono così importanti, no? Parliamo di manutenzione straordinaria. A questo punto, come vi ho detto prima, andiamo a vedere anche la SCIA, quindi viene naturale, come ho detto prima, se uno pone la risposta in un certo modo, di portare magari il commissario a chiedere ulteriori domande dalla risposta che noi abbiamo dato, no? Quindi la SCIA o segnalazione certificata di inizio attività, che sicuramente molti di voi conoscono, e vedete quali sono le opere che può eseguire, no? Tutto quello, il titolo superiore comprende anche le opere del titolo inferiore, ok? Quindi dalla manutenzione straordinaria a un intervento di restauro leggero che può modificare un po' la sagoma dell'immobile, no? Ma un restauro molto leggero. Poi ovviamente abbiamo accennato al PDC che principalmente si usa per le nuove costruzioni, dove ci sono ampliamenti particolari, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, ma ci sono definizioni molto più ampliate di questo. Però cerchiamo di, come dire, di non andare tantissimo in approfondimento se non conosciamo bene quello di cui stiamo parlando, ok? Ora, un'altra domanda tipica è qual è la procedura di accatastamento di un immobile, no? Che è una domanda, se vogliamo, non completa, perché di che cosa stiamo parlando? Di un accatastamento di un immobile ma che non è nuovo, quindi non è stato inserito in mappa, dell'accatastamento di un immobile che è inserito in mappa ma non è mai stato censito, oppure di opere per cui ho eseguito delle pratiche edilizie e quindi devo fare una variante di aggiornamento. Quindi, capite, la domanda detta proprio così in maniera secca non è il, come dire, non è subito magari comprensibile, uno si confonde, allora partiamo da un concetto semplice, spieghiamolo noi. Allora, a quel punto lì, se diciamo, se è un immobile di nuova costruzione va eseguito prima l'inserimento in mappa attraverso che cosa? La procedura pregeo con un rilievo celerimetrico e poi l'accatastamento con la predisposizione di nuove planimetrie sempre con la procedura DOCFA, documentazione per il catasto fabbricati. Se invece il fabbricato è esistente si procede sempre con la procedura DOCFA per variazione delle planimetrie esistenti. Quindi vedete che quando si usa il programma DOCFA c'è nuova costituzione, quindi vuol dire nuovo accatastamento oppure variazione di una planimetria, che può essere anche la costituzione di un nuovo, magari ho frazionato un appartamento in due, quindi vado a costituire due nuove planimetrie. Quindi il catasto è abbastanza vasto, però dandolo in modo semplice che cosa fa capire? Fa capire che uno ha compreso come funziona l'accatastamento di un immobile. Non entrano nello specifico del caso particolarissimo, no? Però in questo modo qui che cosa avete dato? Avete dato una risposta che avete fatto capire che sì, conosco che c'è la procedura, se devo fare questa procedura c'è questa, se devo fare quest'altra c'è quest'altra, ok? Quindi molto importante far capire la professionalità che state affrontando. Un'altra domanda è un po' che cos'è, parli della deontologia professionale, no? Ora, il codice deontologico di ogni professione, dovreste averlo anche voi, basta leggerlo di che cosa parla, ma qual è la definizione principale e di che cos'è? No, come vedete in tre righe posso dare una risposta, no? È un insieme, alla fine il codice deontologico, è un insieme di doveri e di regole, di comportamento che sono fondati sull'etica della professionista, che impegnano la professione, i professionisti si impegnano tra di loro anche nei confronti dei clienti, quindi per l'esercizio della professione, non solo tra colleghi, quindi anche nei confronti dei clienti. Quindi la deontologia, come vedete, può essere poi letta, non sono tantissime pagine, però in realtà con questa definizione avete dato la risposta. Quello che voglio farvi capire con queste domande è di cercare la definizione più semplice da dare e più sintetica possibile, ok? L'altra potrebbe essere che cos'è la parcella? Ora, se mentre prima quando eravate di persona potevano dirvi magari fammi vedere se devi fare la parcella, che ne so, di mille euro a un cliente, come la fai, no? Qui è un po' più difficile dovendolo fare l'esame su una piattaforma, quindi dobbiamo dare una definizione di quella che è la parcella. La parcella professionale non è altro che una fattura pro forma che viene messa per il pagamento degli onorari e delle spese professionali, quindi come vedete in pochissimo ho già risposto alla domanda. Adesso vado un po' veloce perché vedo che il tempo scorre, io potrei stare anche ore qua. Allora, poi l'ultima e quindi poi ho parlato di efficienza energetica che cos'è l'APE. È vero, io posso non essere un certificatore energetico, ma l'APE, anche chi deve fare una compravendita sa che serve magari l'APE, quindi sa che cos'è l'APE, non sa come si fa, non sa quello che deve farlo magari un certificatore, ma sa che cos'è l'APE, quindi deve saperlo anche chi si accinge a fare la protezione e quindi l'APE l'ha testato, quindi andate a definire bene, loro vi diranno APE, che cos'è l'APE? L'ha testato di prestazione energetica, che è una certificazione redata da un professionista abilitato per redigere quella che è l'analisi energetica di quell'edificio allo stato attuale, come vi ho spiegato prima, e quindi attribuisce una classe energetica a questo edificio. Ma adesso arriviamo all'ultima domanda e la domanda che veramente è capitato anche a me, che è la più difficile, dove ho visto candidati fare scena muta ed è veramente complicato, ma la domanda qual è? Qual è la domanda sulla quale molte persone non sapevano rispondere? E sapete qual è? La cosa più sciocca, la cosa più che viene chiesta è quando un commissario per aiutare dice mi parli di un argomento a piacere. E qui ho visto veramente fare scena muta, l'espressione di uno che guarda e sta pensando, vedete gli occhi che vanno in su, che sta pensando, dice ma nella sua mente, dice ma qual è il mio argomento a piacere, ma di che cosa gli devo parlare a questo qua? Capite che questa domanda qui ha lasciato veramente a bocca aperta e anzi chiusa, perché non parlava a nessuno e ha fatto fare scena muta a tantissime persone. È una domanda non difficile, ma neanche semplice, ma c'è una strategia questo. Qual è la strategia? La strategia è che l'argomento a piacere ve lo dovete preparare prima. Può essere che vi venga chiesto un argomento, parlami di qualcosa di cui sei bravo, deliziami con qualcosa che tu sai esprimere bene, di che hai fatto bene come lavoro. Se io non ho un argomento a piacere, me lo preparo. Il commissario non sa qual è il mio argomento a piacere, ma almeno io devo sapere qual è e me lo posso preparare, così che quando il commissario mi chiede qual è il mio argomento a piacere, tac, lo vado a prendere subito dalla memoria. Se no invece cosa succede? Che il cervello inizia a lavorare e a dire ma qual è, vediamo, vediamo, inizia a pensare, a dire quale potrebbe essere, ma sì forse la certificazione, forse no, magari un progetto, però io ho lavorato sul Catastro, ma sul Docfa però non ho fatto questo, e oltre, mentre sta pensando il tempo passa, ma i secondi, quando si fa scena muta, diventano veramente lunghi. Quindi capite che sono cose importanti le strategie di quando si fa un esame, oltre alla preparazione, per carità, ma l'applicazione di una strategia è altrettanto importante quanto la conoscenza di quello che andiamo ad esporre. Quindi sono parti legate, ma questo fa parte anche della professione. Faccio un esempio stupido, io posso magari adottare un metodo per fare un rilievo e determinare la superficie di un terreno con tanti metodi, no? Posso andarmi a calcolare tutti gli angoli, tutte le cose, tutto, oppure posso impostare due equazioni e mi calcolo le cose, ma il cliente che cosa vi aveva chiesto? Voleva sapere la superficie del terreno, non vi ha chiesto se di stare lì tre giorni a fare calcoli, oppure magari con un'altra strategia ce ne mettete mezza giornata. La strategia è quella che adottiamo per fare un determinato lavoro, per fare un progetto, per fare una... ma anche nell'antincendio vengono chiamate strategie antincendio, no? Perché? Perché la strategia è importante in tutti i settori e soprattutto anche in questo, dove ci sono quando ci sono gli esami, ok? Quindi io quello che... sono ormai in sforato di qualche minuto, ma quello che volevo darvi come informazione era una serie di domande tipiche, ma più che altro come poterle affrontare le domande, a prescindere da quelle che abbiamo visto, ma come crearsi la risposta a queste domande. Allenarsi un attimino su queste cose è importante, ma soprattutto anche crearsi una strategia, l'argomento piacere, capire e amare questa professione prima di affrontarla come esame è la cosa più importante perché questo si percepisce. Se non amate questo lavoro si percepisce anche questo, ma lo percepisce sia i commissari, i clienti e tutti quanti. Come quando uno in un lavoro vede solo i soldi e non vede il problema che il cliente vuole risolvere, state tranquilli, non vi dovete preoccupare dei soldi perché quel lavoro non lo farete, perché il cliente percepisce questa sensazione. È una sensazione che percepisce di una persona che vuole aiutarlo perché i soldi è solo la conseguenza di un lavoro. Perché non dovrebbe pagarvi se fate un lavoro fatto bene, se avete aiutato il cliente e avete fatto le cose. Se invece la sensazione che voi date è solamente di vedere il simbolino del dollaro dagli occhi, il cliente lo vede questo. Quindi veramente affrontate questa cosa con passione, con piacere e tutti gli ostacoli saranno smussati. Quindi vi do un'ultima cosa perché se amate il vostro lavoro e se lavorate divertendovi è come se non lavoraste un solo giorno della vostra vita perché il lavoro ci diverte, ci piace, ci fa piacere stare al lavoro. Non perché il lavoro si dice, qualcuno dice si lavora per vivere e non si vive per lavorare. Giustissimo, ma siccome noi passiamo tantissimo tempo al lavoro, se lavoriamo divertendoci vuol dire che possiamo divertirci anche dopo, benissimo, ma ci divertiamo anche al lavoro. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, da parte mia ringrazio tutti, grazie, arrivederci.